arrivarono in città che era ancora troppo presto la bottega del maniscalco era ancora chiusa e silenziosa le porte dei negozi erano chiuse uomini e donne vestiti di tutto punto con i loro bambini vestiti di tutto punto camminavano lungo i bordi della polverosa strada principale e si dirigevano verso la chiesa la chiesa era un edificio nuovo non lontano dalla scuola papà vi si diresse attraversando con il carro l'erba della prateria la chiesa era come la scuola a eccezione del fatto che sopra il tetto c'era una stanzetta vuota cos'è quello chiese laura non indicare laura rispose mamma è un campanile papà fermò il carro di fronte all'alto portico della chiesa e aiutò mamma a scendere laura e mary scesero a loro volta scavalcando il cassone del carro poi aspettarono mentre papà sistemava il carro all'ombra della chiesa staccava seme devide li legava al carro la gente arrivava attraversando l'erba saliva le scale ed entrava in chiesa all'interno c'era un mormorio basso e solenne alla fine papà arrivò prese in braccio carri e camminò con mamma fin dentro la chiesa laura e mary camminavano lentamente appena dietro di loro sedettero tutti in fila su una lunga panca la chiesa era esattamente come la scuola a parte quella strana sensazione di vuoto ogni minimo rumore riecheggiava amplificando dalle pareti di legno nuove un uomo alto e magro stava in piedi dietro l'alto banco sulla pedana i suoi abiti erano neri la grossa cravatta era nera e anche i capelli e la barba che gli circondava il viso la sua voce era dolce e gentile tutte le teste annoivano la voce dell'uomo parlò a lungo laura rimase perfettamente immobile guardando i fiocchi blu delle sue trecce all'improvviso una voce accanto a lei disse vieni con me laura sussultò una bella signora dagli occhi blu le sorrideva disse ancora venite bambine faremo una lezione di catechismo mamma fece sì con la testa così laura e mary si alzarono dalla panca non sapevano che ci fosse lezione la domenica la signora le condusse in un angolo c'erano tutte le bambine della scuola e tutte si guardavano con aria interrogativa la signora trascinò le panche disponendolo in modo da formare un quadrato sedette e prese laura e kirsty accanto a sé quando le altre furono sedute sul quadrato formato dalle panche la signora disse che suo nome era signora tower e chiese alle bambine i loro nomi poi disse ora vi racconterò una storia laura era contenta ma quando la signora tower cominciò e la storia di un bambino nato tanto tempo fa in egitto il suo nome era mosè smise di ascoltare sapeva tutto di mosè e della cesta tra i giunchi persino che riconosceva quella storia dopo il racconto la signora tower sorrise ancora più del solito e disse ora impareremo un verso della bibbia che ne dite sì signora risposero tutte in coro a ogni bambina la signora disse un verso della bibbia dovevano ricordarlo e ripeterlo la settimana successiva quella era la lezione di catechismo quando fu il turno di laura la signora tower la abbracciò e le fece un sorriso caldo e dolce quasi quanto quello di mamma disse la più piccola delle bambine avrà il più piccolo dei versi questo è il più corto di tutta la bibbia allora laura seppe di cosa si trattava con uno sguardo sorridente la signora tower disse sono solo due parole poi chiese pensi di poterle ricordare per una settimana intera laura era sorpresa ma certo ricordava versi lunghi e persino interi canti ma non voleva offendere la signora tower quindi rispose sì signora brava la mia bambina disse la signora tower ma laura era la bambina di mamma te lo ripeterò ancora per aiutarti a ricordare solo due parole disse la signora tower puoi ripetere dopo di me laura era imbarazzata prova la esortò la signora tower laura abbassò la testa e ripete sottovoce il verso bene ora farai del tuo meglio per ricordarlo e ripetermelo domenica prossima vero laura annui dopodiché tutti si alzarono e provarono a cantare gerusalemme d'oro non erano in molti a conoscere le parole della canzone laura aveva i brividi lungo la schiena e le sue orecchie chiedevano pietà fu un sollievo quando tornarono tutti a sedere poi l'uomo alto e magro si alzò e parlò laura pensò che avrebbe continuato all'infinito guardava fuori dalle finestre aperte le farfalle libere di andare dove volevano e l'erba acullata dal vento ascoltava il vento soffiare lungo i bordi del tetto guardò i nastri blu tra i capelli poi si guardò le unghie delle mani ammirando il modo in cui le dita combaciavano tra loro infilò le dita di una mano in quelle dell'altra come l'angolo di una casa di tronchi guardò le listarelle del tetto sopra di lei le facevano male le gambe a forza di star ferma alla fine si alzarono e provarono nuovamente a cantare dopodiché la cerimonia finì ah potevano tornare a casa l'uomo alto e magro era in piedi vicino alla porta era il reverendo olden stringse la mano a mamma e papà e parlarono per un po poi si chinò per stringere la mano a laura i suoi denti splendevano dietro la barba scura gli occhi blu erano calorosi chiese ti è piaciuta la lezione di catechismo laura all'improvviso laura si rese conto che l'era proprio piaciuta e disse sì signore allora verrai tutte le domeniche rispose il reverendo olden ti aspettiamo laura capì che l'avrebbero aspettata davvero e non se ne sarebbero dimenticati sulla strada del ritorno papà disse beh caroline è bello stare insieme a tanta gente che cerca di agire nel modo giusto proprio come noi sì charles disse mamma riconoscente sarà un piacere che aspetteremo per tutta la settimana papà si voltò sul sedile chiese bambine cosa ne dite della vostra prima volta in chiesa non sanno cantare disse laura papà esplose in una sonora risata poi disse non c'era nessuno che desse in là al giorno d'oggi charles commentò mamma esistono i libri dei canti forse un giorno potremmo permettercene uno rispose papà da quel giorno andarono al catechismo ogni settimana per tre o quattro volte facevano lezione poi arrivava il reverendo olden e quella era la domenica della predica il reverendo olden viveva nella sua vera chiesa a est non poteva venire lì ogni domenica quella ovest era la sua chiesa missionaria niente più domeniche lunghe noiose e monotone ora c'erano le lezioni di catechismo e dopo la lezione avevano tanti nuovi argomenti di conversazione le migliori domeniche erano quelle in cui c'era reverendo olden si ricordava sempre di laura e lei lo ricordava spesso tra un incontro e l'altro chiamava laura e mary le sue ragazze di campagna una domenica mentre papà e mamma mary e laura sedevano a tavola parlando della lezione di catechismo papà disse se devo portarvi in mezzo a gente ben vestita farei bene a prendermi un paio di stivali nuovi guardate allungò il piede il suo stivale già rattoppato si era rotto all'altezza delle dita guardarono la sua calza rossa che sbucava dalla fessura aperta i bordi di pelle erano sottili e si lavano tra le piccole crepe papà disse non posso riaggiustarli ancora o volevo che ti prendessi degli stivali chas disse mamma e tu mi hai portato quel calico per il mio vestito papà decise prenderò un paio di stivali nuovi quando andrò in città sabato prossimo costeranno tre dollari ma in qualche modo ce la caveremo fino al momento del raccolto per tutta la settimana papà fece il fieno aveva aiutato signor nelson con il suo guadagnandosi diritto di usare la sua falciatrice disse che il tempo era perfetto non aveva mai visto un'estate così secca e soleggiata laura non avrebbe voluto andare a scuola avrebbe preferito restare nei campi con papà a guardare quella macchina meravigliosa che falciava l'erba con le sue lunghe lame sabato mattina andò nel campo con il carro e aiutò papà a finire di caricare il fieno guardarono il campo di grano più alto di laura oltre la porzione di erba falciata la sua superficie piatta era ruvida di spighe piegate sotto il peso dei chicchi maturi una volta raccolto il grano papà disse che non avrebbero più avuto debiti e avrebbero avuto tanti soldi da non sapere cosa farne lui avrebbe avuto un calesse mamma un vestito di seta e tutti avrebbero avuto scarpe nuove e avrebbero mangiato carne ogni domenica dopo pranzo indossò una camicia pulita e prese tre dollari dalla scatola del violino sarebbe andato in città a comprare gli stivali nuovi ci andò a piedi i cavalli avevano lavorato tutta la settimana quindi li lasciò a casa a riposare era tardo pomeriggio quando papà tornò a casa a piedi laura lo vide sulla collina e corse con jack dalla casa del vecchio granchio nel ruscello poi entrò insieme a lui mamma che stava sfornando il pane del sabato si voltò dove sono i tuoi stivali charles chiese beh caroline disse papà ho visto il reverendo olden e mi ha detto che non riusciva a raccogliere abbastanza soldi per comprare una campana da mettere nel campanile la gente in città gli ha dato tutto quel che poteva ma gli mancavano ancora tre dollari così glieli ho dati o charles fu tutto ciò che disse mamma papà guardò il suo stivale rotto lo aggiusterò disse troverò un modo pensa potremo sentir suonare la campana della chiesa fin qui mamma si voltò nuovamente verso il forno laura uscì in silenzio e sedette sul gradino davanti alla porta le faceva male la gola avrebbe voluto tanto che papà avesse un paio di stivali nuovi senti papà dire non preoccuparti caroline tra poco raccoglierò il grano la nuvola scintillante il grano era quasi pronto per essere raccolto papà lo guardava ogni giorno ogni sera ne parlava e mostrava laura le lunghe spighe forti i grossi semi diventavano sempre più duri sotto la buccia papà diceva che il tempo era perfetto per la maturazione del grano se continua così disse cominceremo a raccoglierlo la settimana prossima faceva molto caldo il cielo alto e rovente era così caldo che non si riusciva a guardarlo l'aria calda saliva ondate dalla prateria come da un forno acceso a scuola i bambini ansimavano come lucertole e la resina appiccicosa dei pini colava lungo le pareti di legno sabato mattina laura andò con papà a vedere il grano era alto quasi quanto lui papà la sollevò sulle spalle in modo che potesse vedere oltre le cime pesanti e ricurve il campo era di un verde dorato a tavola papà ne parlò a mamma non aveva mai visto un raccolto del genere c'erano 40 staia per acro e il grano valeva un dollaro a staia erano ricchi quello era davvero un paese meraviglioso ora avrebbero avuto tutto ciò che desideravano laura ascoltava e pensava che finalmente papà avrebbe avuto i suoi stivali nuovi sedette di fronte alla porta aperta la luce del sole ondeggiava attraverso l'apertura sembrava che qualcosa attenuasse la luce laura si strofinò gli occhi e guardò di nuovo la luce del sole era offuscata e lo divenne più e più fino a oscurarsi completamente credo che stia arrivando un temporale disse mamma deve esserci una nuvola davanti al sole papà si alzò in fretta e si diresse verso la porta il temporale avrebbe potuto danneggiare il raccolto guardò fuori poi uscì la luce era strana non era come quando cambia prima di un temporale l'aria non era pesante come prima della tempesta laura era spaventata ma non sapeva perché corse fuori papà stava guardando il cielo uscirono anche mamma e mary papà disse cosa ne pensi caroline c'era una nuvola davanti al sole non somigliava alle nuvole che avevano visto fino a quel momento dalla nuvola accade qualcosa che sembrava neve ma i pezzi erano più grandi dei fiocchi di neve più sottili e lucicanti la luce faceva brillare ogni singolo pezzetto non c'era vento l'erba era immobile e l'aria calda eppure la nuvola si avvicinava attraversando velocemente il cielo e jack a jack si drizzarono i peli sul collo a un certo punto mise un suono spaventato diretto verso la nuvola un ringhio e un lamento toc qualcosa cadde sulla testa di lauree poi a terra guardò in basso era la cavalletta più grossa che avesse mai visto poi enormi cavallette marroni cominciarono a cadere a terra tutto intorno colpendola in testa in faccia e sulle braccia cadevano con un tonfo come se grandinasse dalla nuvola piovevano cavallette era una nuvola di cavallette i loro corpi nascondevano il sole e facevano scendere il buio le ali larghe sottili brillavano e il ronzio stridente riempiva l'aria colpivano il suolo e la casa con il rumore di una tempesta di grandine laura cercava di respingere ma le si attaccavano alla pelle al vestito la guardavano con gli occhi sporgenti girando la testa da una parte dall'altra mary corse in casa urlando il terreno era ricoperto di cavallette non c'era nemmeno un piccolo spazio su cui camminare laura dovete camminare schiacciando le cavallette che crepitavano sotto i suoi piedi mamma stava chiudendo tutte le finestre della casa papà entrò rimase vicino alla porta d'ingresso guardando fuori laura e jack stavano vicino a lui le cavallette cadevano dal cielo e brolicavano a terra le lunghe ali erano ripiegate le loro zampe forti le facevano saltare ovunque l'aria ronzava e dal tetto proveniva lo stesso rumore di quando grandinava poi laura udì un altro suono un rumore forte fatto di tanti piccoli suoni come un mordicchiare rosicchiare tagliozzare il grano urlò papà si precipitò fuori dalla porta sul retro e corse verso il campo di grano le cavallette stavano mangiando per sentire una cavalletta che mangia bisogna ascoltare attentamente mentre la si nutre con un filo d'erba ma ora c'erano milioni e milioni di cavallette che mangiavano si sentivano milioni di mascelle che mordevano e masticavano papà tornò di corsa alla stalla dalla finestra laura lo vide attaccare seme devida al carro con la forca cominciò a cogliere della paglia vecchia e sporca dal mucchio di letame dentro il carro più in fretta che poteva mamma uscì prese l'altra forca e lo aiutò poi papà si diresse verso il campo di grano e mamma lo seguì papà girò intorno al campo buttando di tanto in tanto piccoli mucchi di paglia e mamma si fermò sopra uno di essi poi un filo di fumo si alzò dal mucchio e cominciò a espandersi uno dopo l'altro mamma accese tutti i mucchi laura guardò finché una macchia di fumo non coprì il campo papà mamma e il carro ma le cavallette continuavano a cadere dal cielo e a coprire il sole oscurandolo mamma rientrò in casa nel ripostiglio si tolse il vestito e la sottogonna scotendoli uccidendo le cavallette che cadevano aveva acceso dei fuochi tutto intorno al campo di grano forse il fumo avrebbe impedito alle cavallette di mangiarlo mamma mary e laura stavano in silenzio chiuse nella casa soffocante carrie era così piccola che piangeva persino in braccio a mamma pianse fino ad addormentarsi attraverso le pareti si sentiva il rumore delle cavallette che masticavano il buio se ne andò il sole tornò a splendere a terra c'era un tappeto di cavallette striscianti e saltellanti stavano mangiando tutta l'erba corta e tenera della collina l'erba alta della prateria ondeggiava si piegava e cadeva oh guardate disse laura alla finestra le cavallette stavano mangiando le chiome dei salici le foglie erano sottili e i rami spogli spuntavano fuori alla fine tutti i rami rimasero spoglie pieni di protuberanze erano mucchi di cavallette non voglio più guardare disse mary allontanandosi dalla finestra anche laura non voleva più guardare ma non riusciva a smettere le galline erano buffe con i loro maldestri pulcini mangiavano cavallette a volontà erano abituati ad allungare il collo e a correre dietro alle cavallette senza riuscire ad acchiapparle ora ogni volta che si allungavano riuscivano a prenderne una erano sorpresi continuavano ad allungare il collo e a cercare di voltarsi contemporaneamente in tutte le direzioni ma non dovremo comprare da mangiare per le galline disse mamma anche le perdite più grosse comportano sempre un piccolo beneficio le file verdi dell'orto si stavano afflosciando patate carote barbabietole fagioli venivano divorate le lunghe foglie delle piante di gran turco i pennacchi le bucce delle pannocchie ancora tenere cadevano a terra ricoperti di cavallette niente e nessuno poteva fermarle il campo di grano era immerso nel fumo attraverso il quale laura talvolta riusciva a intravedere papà niente si poteva fare quando fu ora di andare a prendere spot laura si mise calze scarpe e uno scialle nel vecchio guado del ruscello spot si scuoteva e agitava la coda la mandri avanzava mugendo tristemente oltre la vecchia casa sotterranea laura era certa che le bestie non potessero mangiare l'erba così piena di cavallette se le cavallette mangiavano tutta l'erba le mucche non avrebbero più avuto di che nutrirsi c'erano cavallette sotto la sua gonna sul vestito sullo scialle laura continuava a scacciarle dal viso e dalle mani sotto le sue scarpe sotto le zampe di spot le cavallette scricchiolavano mamma coperta da uno scialle arrivò per la mungitura laura l'aiutò non riuscivano a tenere le cavallette fuori dal latte mamma aveva portato un tessuto per coprire il secchio ma non potevano tenerlo coperto mentre mungevano mamma toglieva le cavallette con una tazza di latta le cavallette entrarono in casa con loro i vestiti ne erano ricoperti alcune saltarono nel forno caldo mentre mary cominciava a preparare la cena mamma tenne coperto il cibo finché non ebbero cacciato e schiacciato tutte le cavallette poi le spazzo via le raccolse con la paletta e le mise nella stufa papà rimase in casa il tempo di cenare mentre Sam e David mangiavano a loro volta mamma non chiese cos'era successo al grano si limitò a sorridere a dire non preoccuparti Charles ce la siamo sempre cavata papà si schiari la gola e mamma disse prendi un'altra tazza di tè ci aiuterà a liberarti dal fumo che hai in gola dopo aver bevuto il tè papà torno al campo di grano con un altro carico di fieno e letame dal loro letto laura e mary sentivano ancora le cavallette ronzare rosicchiare masticare laura sentì delle zampe che le camminavano addosso non c'erano cavallette nel letto ma non riusciva a togliersi di dosso quella sensazione nel buio vedeva gli occhi sporgenti delle cavallette sentiva le loro zampe camminarle addosso poi alla fine si addormentò il mattino dopo papà non era al piano di sotto aveva lavorato tutta la notte per mantenere il grano immerso nel fumo e non era rientrato per colazione era ancora al lavoro l'intera prateria era irriconoscibile l'erba non si muoveva giaceva a terra in piccoli mucchi e quando sorse il sole le ombre proiettate dall'erba spezzata e ammucchiata rendevano il paesaggio nudo i salici erano spogli nei boschetti di susini solo qualche nocciolo restava appeso ai rami il rumore delle cavallette che rosicchiavano mordicchiavano e masticavano non era cessato nel pomeriggio papà con il carro uscì dal fumo mise seme devide nella stalla e lentamente entrò in casa il suo volto era nero di fumo e aveva gli occhi rossi appese il cappello al chiodo dietro la porta e sedette a tavola è inutile caroline disse il fumo non le fermerà continuano ad arrivare arrivano da tutte le parti il grano si sta spezzando lo tagliano come una falce e lo mangiano con il gambo e tutto appoggiò i gomiti sul tavolo e si nascose il volto tra le mani laura e mary sedevano immobili solo carri sul seggiolone agitava il cucchiaio e cercava di afferrare il pane con la manina era troppo piccola per capire stai tranquillo charles disse mamma abbiamo già attraversato altri momenti difficili laura guardò sotto il tavolo gli stivali rattoppati di papà e sentì un nodo alla gola non avrebbe potuto comprarsene di nuovi papà si tolse le mani dal viso e prese il coltello e la forchetta la sua barba sorrideva ma gli occhi non brillavano erano spenti e opachi non preoccuparti caroline disse abbiamo fatto tutto quello che potevamo in qualche modo ce la caveremo allora laura si ricordò che la casa nuova non era stata pagata papà aveva detto che l'avrebbe pagata dopo aver raccolto il grano mangiarono in silenzio e alla fine papà si sdraiò a terra e si addormentò mamma gli infilò un cuscino sotto la testa e si mise il dito davanti alla bocca per dire a laura e mary di rimanere in silenzio portarono carri in camera da letto la tenero buona con le loro bambole di carta l'unico suono udibile era quello delle cavallette che mangiavano giorno dopo giorno le cavallette continuarono a mangiare mangiarono tutto il grano e l'avena mangiarono tutto ciò che c'era di verde tutto l'orto e tutta l'erba della prateria oh pa come faranno i conigli chiese laura e i poveri uccelli guardate intorno laura disse papà tutti i conigli se ne erano andati e anche i piccoli uccelli che stavano nell'erba gli uccelli rimasti mangiavano le cavallette e le galline correvano con il collo teso inghiottendone a volontà quando venne la domenica papà laura e mary andarono in chiesa il sole splendeva così limpido e caldo che mamma disse che sarebbe rimasta a casa con carrie e papà lasciò seme devide all'ombra nella stalla non pioveva da così tanto tempo che laura attraversò il ruscello camminando sulle pietre asciutte tutta la prateria era spoglia e scura milioni e milioni di cavallette ronzavano basse sopra di essa non si vedeva un solo filo d'erba lungo tutta la strada laura e mary scacciarono le cavallette quando arrivarono alla chiesa avevano le sottogonne piene di cavallette si sollevarono la gonna e le scacciarono prima di entrare nonostante avessero fatto attenzione le cavallette avevano macchiato i loro vestiti della domenica quelle orribili macchie non se ne sarebbero più andate avrebbero dovuto indossare i vestiti macchiati molta gente in città ripartiva verso est kirstie e kassie dovessero andare laura disse addio a kirstie e mary disse addio a kassie le loro migliori amiche non andavano più a scuola dovevano conservare le scarpe per l'inverno e non riuscivano a camminare a piedi nudi sulle cavallette la scuola sarebbe comunque finita presto mamma disse che avrebbero studiato a casa durante l'inverno in modo da non essere indietro quando la scuola avesse aperto nuovamente la primavera successiva papà lavorò per il signor nelson guadagnando il diritto di utilizzare il suo aratro e cominciò ad arare il campo di grano ormai spoglio per prepararlo al raccolto dell'anno successivo uova di cavalletta un giorno laura e jack camminavano lungo ruscello a mary piaceva rimanere seduta a leggere a fare calcoli sulla lavagna ma laura nera stufa fuori del resto era tutto così triste che non aveva nemmeno voglia di giocare il ruscello era quasi in secca solo un filo d'acqua scorreva attraverso la sabbia ghiaiosa i salici nudi non proiettavano più la loro ombra sulla passerella sotto i susini spogli l'acqua schiumava il vecchio granchio se n'era andato la terra era calda la luce del sole rovente e il cielo aveva il colore dell'ottone il ronzio delle cavallette sembrava scaldare non si sentivano più buoni profumi poi laura vide una cosa strana su tutta la collina le cavallette sedevano con la coda infilata nella terra non si muovevano nemmeno se le toccava e spinse una via dal buco sul quale era sedute con un bastoncino tiro fuori una cosa grigia aveva la forma di un grosso verme ma non si muoveva non sapeva cosa fosse jack lo annusò con aria interrogativa laura si diresse verso il campo di grano per chiedere a papà ma papà non stava arando seme davide se ne stavano fermi attaccati all'aratro e papà camminava guardando a terra poi laura lo vide avvicinarsi all'aratro e tirarlo fuori dal solco se ne andò e riportando seme davide nella stalla con l'aratro inutilizzato laura sapeva che solo qualcosa di terribile avrebbe costretto papà a smettere di lavorare nel bel mezzo della mattina andò alla stalla più in fretta che poté seme davide erano nei box e papà stava appendendo le loro briglie inzuppate di sudore uscì e non sorrideva laura lo seguì lentamente fino a casa mamma lo guardò e chiese charles cosa succede adesso le cavallette stanno deponendo le uova disse papà il terreno ne è pieno guarda il cortile davanti alla casa vedrai i buchi dove hanno sotterrato le uova a circa 5 centimetri di profondità ovunque non c'è spazio nemmeno per infilare un dito tra un uovo e l'altro guarda qui prese una di quelle cose grigie dalla tasca e la tenne in mano eccone uno un guscio d'uovo di cavalletta ne ho aperti ci sono 35 40 uova in un guscio e c'è un guscio in ogni buco e ci sono tre o quattro buchi per metro quadrato dappertutto in tutta la campagna mamma sedette su una sedia e lasciò cadere le braccia inerti abbiamo tante probabilità di aver un raccolto il prossimo anno quante di imparare a volare disse quando le uova si schiuderanno non rimarrà un solo filo d'erba in questa parte del mondo oh charles disse mamma cosa faremo papà si lasciò cadere su una panca e disse non lo so le trecce di mary dondolavano oltre il bordo della botola mentre guardava giù verso di loro guardò laura con aria ansiosa e laura la guardò a sua volta poi mary si tirò indietro senza fare rumore rimase appoggiata al muro accanto a laura papà si alzò i suoi occhi cupi brillavano di una luce fiera diversa dall'ucichio che laura vedeva di solito ma so una cosa caroline disse che delle maledette cavallette non possono piegarci faremo qualcosa vedrai ce la faremo in qualche modo sì charles disse mamma perché no disse papà siamo in salute abbiamo un tetto sopra la testa stiamo meglio di un sacco di altra gente prepara da mangiare intanto caroline andrò in città troverò una soluzione non preoccuparti mentre papà era in città mamma mary e laura gli prepararono una cena speciale mamma scaldò il latte in utegame e preparò delle belle palline di fiocchi di latte mary e laura tagliarono delle patate bollite ormai fredde e mamma preparò una salsa per condirle e poi c'erano pane burro e latte poi si lavarono i capelli e si pettinarono si misero i vestiti buoni e i nastri tra i capelli misero a car il vestitino bianco la pettinarono e le legarono la collana di perline indiana intorno al collo poi aspettarono che papà risalisse lungo la collina ricoperta di cavallette fu una cena gioiosa quando ebbero mangiato tutto papà allontano il suo piatto e disse bene caroline si chance disse mamma ecco qual è la soluzione disse papà partirò verso est domani mattina o charles no gridò mamma è tutto a posto laura disse papà voleva dire non piangere laura e laura non pianse laggiù è tempo di raccolto disse loro papà le cavallette sono arrivate solo a 150 chilometri da qui più in là ci sono i raccolti e l'unico modo per trovare un lavoro è tutti gli uomini andranno a este per ottenerne uno devo fare in fretta se pensi che sia la cosa migliore da fare disse mamma io e le ragazze possiamo cavarcela ma charles sarà una camminata così lunga ma che cosa vuoi che siano 300 chilometri disse papà intanto però guardava i suoi stivali rattoppati laura sapeva che si stava chiedendo se avrebbero resistito fin laggiù 300 chilometri non sono nulla disse poi tiro fuori il violino dalla scatola sono a lungo nel crepuscolo mentre laura e mary sedevano accanto a lui e mamma culava carri poco lontano suonò dixieland we rally round the flag boys suonò oh the blue bonnets are over the border e oh susanna non piangere per me me ne andrò in california e il cattino avrò con me suonò arrivano i campbell hurrah hurrah e amiamo la vita poi mise via il violino doveva andare a dormire presto per alzarsi presto il mattino seguente prenditi cura del vecchio violino caroline disse mi scalda il cuore dopo colazione all'alba papà le baciò e partì la sua seconda camicia un paio di calze erano arrotolati nel maglione che portava appeso alla spalla appena prima di attraversare il plum creek si voltò e salutò con la mano poi proseguì fino a scomparire senza più voltarsi indietro jack se ne stava stretto contro la gamba di laura dopo la partenza di papà rimasero tutte in silenzio per un po poi mamma disse allegramente beh ora dobbiamo occuparci noi di tutto ragazze mary e laura sbrigatevi a portare la mucca incontro alla mandria entrò svelta in casa con carrie mentre laura e mary correvano a prendere spot per tirarla fuori dalla stalla e portarla al di là del ruscello non c'era più erba nella prateria e le bestie affamate non potevano far altro che girarsi lungo le rive del ruscello mangiando germogli di salice qualche foglia di susino e un po d'erba secca dell'estate precedente pioggia tutto era monotono e noioso senza papà laura e mary non sapevano nemmeno contare i giorni che mancavano al suo ritorno non riuscivano a non pensare a tutta la strada che doveva percorrere con i suoi stivali rattoppati jack se ne stava tranquillo il suo naso stava diventando grigio spesso guardava la strada vuota lungo la quale papà si era incamminato sospirava e si sdraiava continuando a guardare ma non sperava veramente che papà tornasse la prateria era ormai morta divorata era piatta sotto il cielo rovente l'orizzonte sembrava strisciare come un serpente turbini di polvere si alzavano e la traversavano roteando mamma diceva che erano causati dalle ondate di aria calda c'era ombra solo in casa non ce n'era sotto i salici né sotto i susini il ruscello era secco c'era solo un po d'acqua nei punti più profondi il pozzo era asciutto e la vecchia sorgente vicino alla casa scavata nella terra gocciolava appena mamma ci metteva un secchio sotto perché si riempisse durante la notte al mattino lo portava in casa e lo sostituiva con un altro che si sarebbe riempito durante il giorno dopo aver terminato i lavori del mattino mamma mary laura e carri sedevano in casa il vento rovente si bilava fuori e le bestie affamate muggivano in continuazione spot era magra le ossa delle anche sporgevano le si vedevano le costole e aveva gli occhi scavati andava in giro muggendo tutto il giorno con il resto della mandria in cerca di qualcosa da mangiare avevano mangiato tutti i piccoli cespugli in riva ruscello e rosicchiato i rami di salice fin dove riuscivano ad arrivare il latte di spot era amaro e ce n'era sempre meno man mano che i giorni passavano sam e david stavano nella stalla non potevano avere tutto il fieno che volevano perché la riserva doveva durare fino a primavera quando laura li portava al ruscello dove prima l'acqua era profonda ricevano il naso per via dell'acqua calda e schiumosa ma dovevano berla anche le mucche i cavalli dovevano tenere duro sabato pomeriggio laura andò dai nelson per vedere se era arrivata una lettera di papà camminò lungo il piccolo sentiero oltre la passerella il sentiero non si snodava più tra i paesaggi piacevoli andava dritto dal signor nelson la casa era lunga e bassa con le pareti imbiancate la lunga stalla fatta di zolle aveva uno spesso tetto di paglia non somigliavano alla casa e alla stalla di papà accoccolate a terra ai piedi di un pendio la casa e la stalla dei nelson sembravano parlare norvegese all'interno la casa era perfettamente in ordine il grande letto era imbottito di piume con grandi cuscini paffuti al muro era appeso un bel ritratto di signora vestita di blu la spessa cornice era dorata e una zanzariera rosa copriva la donna e la cornice per tenere lontane le mosche non c'erano lettere da papà la signora nelson disse che suo marito avrebbe chiesto nuovamente all'ufficio postale il sabato successivo grazie signora disse laura e si affrettò lungo il sentiero camminò lentamente lungo la passerella poi sempre più lentamente su per la collina mamma disse non importa bambine ci sarà una lettera sabato prossimo ma il sabato successivo non c'erano lettere da papà grazie a tutti